DROP DINISO DEL CHECONDO TEMPO PRENDE LA PALA CARBANZIL PERICO DE BETA APICO BETA PRIMA META DEL SECONDO TEMPO APPENA HÉ FETTUATO DEL RINIZIO ADENTRO ADENTRO UNA VAI Grazie a tutti. E' un passaggio incredibile, il passaggio sbagliato e regala la vittoria al Calvisano con la perdita del bonus. Questo è un errore, ha provato a fare di tutto Mogliano, ha provato a giocare, ha provato a giocare, ha provato a giocare e qui è riuscito a perdere il pallone. E' un pallone alto sotto il quale va a pressare Vanzil, Vanzil riesce a mettere le mani per Fischetti. La palla è all'indietro, l'azione regolare, la carica di Fischetti ha guadagnato parecchi metri, il pilone è laziale e Casilio gioca dalla parte chiusa per Vanzil. Vanzil, l'accelerazione dell'ala dell'Azion del Samra e Andreotti in Vanzil, bellissima azione del Calvisano. ...debordato verso il centro trovando la difesa del Calvisano arrembante che arrivava e rientrava, e c'erano invece gambe veloci. Per Donofio, il salto settentativo di intercetto che riesce splendido da parte di Vanzil, che va a schiacciare in mezzo ai pali. La risposta del Calvisano per Biondelli, il salto per Bacchetti, la gran difesa da parte di Vanzil. Il Calvisano che ora apre, gioca gratis perché ha un vantaggio, prende il palo ma era comunque fuori misura, devo dire, poi la palla ben gestita da Viedana ma c'è un intercetto importantissimo di Vanzil che va in meta, va in meta addirittura ha l'opportunità di andare vicino ai pali. Tupou, Aperlì, buona ancora intercetto, ancora intercetto di Vanzil che questa volta, vediamo, non viene placato da Aperlì e con ogni probabilità andrà in meta, così è. Ancora Vanzil, ancora lui, è andato a beffare i gialloneri per la seconda. Si ha vinta sulla palla in profondità. Vanzil Vanzil Vediamo Un bel calcione Da questi a Sam Lane che fa partire un altro up and under al centro del campo Saltano in due C'è un in avanti Si riparte dalla base Altra salita rapida Bettin che però manca Vanzil Qui Placcaggio al limite ma è stato Vanzil a saltare Permette a girare Continua a giocare verso sinistra Qui Calvisano, cosa si inventa Bruno E bella meta Bella meta con Vanzil C'è da dire che Insomma Vini che fanno molta strada, arrivano all'altezza dei 22 metri Ancora una volta Attenzione, bellissima L'azione Una grande esperienza internazionale Ingresso anticipato da parte della Lazio Calcio di punizione in diretto Vunisa cerca di sorprendere i laziali Che però riescono a fermarlo in tempo utile Attenzione all'apertura Da parte di Semenzato Il taglio all'interno Cerca strada sotto i pali E riesce a segnare Il Calvisano Cuco porta il pallone fino ai 22 avversari Ancora buona volontà Apre per Bonifazzi All'interno per Bruno Ma il pallone sfugge A numero aperto il gioco all'esterno Attenzione all'inserimento di Vanzil Sempre efficace l'estremo sudafricano Che getta lo scompiglio tra le file dei difensori laziali Fermato dal suo collega di ruolo Bonifazzi Gialloneri Calcio di Sebaios Riorganizzano il controattacco Cerca l'intervallo Calcia via il pallone Pescetto Con un'azione quasi calcistica Ancora al piede Il Calvisano cerca di allontanare più possibile il pallone Guardiano Lo raccoglie Lo serve A Vella Attenzione alla pressione Quasi nella difesa laziale Nel primo tempo Sale molto bene Marco Susio Che serve Vanzil Che parte Attenzione alle gambe Dell'estremo sudafricano Viene fermato In maniera abbassata E' lui Giustamente Bruno Pier Che dà la palla al suo compagno Vanzil Che trova una buona attuscia Un bel drivic E Andreotti Vanzil Fissa Dà la palla a Bruno Che fissa ancora lui Pericolo Sostegno Va 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 Mette la quinta Vanzil Metà Accelta Da Fabio Semenzato Mozzarella Bravo Bel gesto tecnico Da Mozzarella Dà la palla a Vanzil Presenta Pallone Vanzil Nicolo Casilio Dà la palla Passaggio Vanzil Che si trova Si trova In una giocata Progressione Con gli avanti Poi Palla giocata Sul Preso palla da fermo Con la salita Degli avversari Anche qui Roden Placcato Da Vanzil Campo Resta Metà Per Caldisano Partita Che era Già ampiamente Nelle mani Della squadra Ospite Che però Continua Ad incassare Punti Ora siamo Sul Che con il piede sinistro Mette il pallone Nella metà Campo di Calvisano Dove lo recupera Occhio Occhio Vanzil Lo scarico Per Bruno Che era cominciato Con il rilancio Di Vanzil Dopo c'è stata Una serie Di passaggi Vicinissimo Percussioni Difficoltà Per Garrido Per Garrido E Garrido Le gambe per andare E Garrido Va in mezzo Ai pali Anzi si ferma lì Ed è la prima meta Del argentino In questa stagione Ah no Era Vanzil Era Vanzil Non era Placcato Ha recuperato Il pallone In tutte le partite E che scaricando Installando sul vostro smartphone L'appli